Erano le 8.30 quando la Fiat 600, condotta da un anziano di 89 anni, è uscita di strada in via Boscalto Ovest all'Oreggia, finendo la sua corsa in un fossato. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale e della Federazione del Campo San Pierese con i vigili del fuoco. L'anziano, colpito da un malore, è rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato tirato fuori e affidato ai sanitari del suo M118 che l'hanno portato in ospedale, dove è attualmente ricoverato in osservazione vista la sua età. Recuperato anche il veicolo, la viabilità è tornata alla normalità.